ehi dai non fare il pigro ricordati di iscriverti al canale e clicca la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video ciao ragazzi bentornati sul canale allora questa sera esce la seconda boss rush e nonostante sia in ritardo e non ho potuto farla live la volta scorsa ho registrato comunque la prima boss rush della serie che ci terracompagna per l'estate e quindi volevo condividere con voi appunto i miei sconti allora il team che ho utilizzato per la prima boss rush è composto da quake, avok, nick fury, capitan marvel e warlock sono andato un po' alla cieca ho visto un pochino che avok era ottimo per gli scontri infatti si è dimostrato ottimo lo vedrete poi vabbè con il team che ho portato non ho avuto grossi problemi quindi spero che gli scontri vi piacciano ci vediamo poi prossimamente per alcuni video che usciranno sui prossimi contenuti rallenterò un pochino perché finalmente lunedì me ne vado al mare quindi magari farò qualche live col telefono proprio alla sperindio ma comunque ci terremo in contatto e cercherò di registrare il più possibile per poi fare uscire più contenuti possibili quando sono tornato a casa quindi una buona giornata a tutti godetegli il video e a solito condividete con amici, parenti, cani, gatti e cincilla iscrivetevi se non siete iscritti, campanella e se vi va di supportarci la cricca di teo ed hoc trovate il link qui in descrizione, ciao! iscrivetevi al canale 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 iscrivetevi al canale